questo distinto da notare bene perchè elegantemente si avvicina prima in maniera ecco così timida poi pian piano pian piano boh sarà una cosa buona sarà una cosa brutta chi lo sa ecco grazie grazie questa cosa la devo mangiare tutta tutta quanta io dovrebbe essere veramente buono dovrebbe essere buono ecco e io a me pure signori sirina signori scusate posso avere una busta io ecco e certo un attimo grazie buu 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 ma signorina ci hanno detto che qui si mangiano cose buone e quindi è possibile assaggiare un poco grazie grazie ma è sicuro che beh dovrebbe essere buone dai dovrebbe essere buone non glielo dire non glielo far sentire e che credo facciamo una brutta figurina adesso mangio e poi vedrai se è buono o no dai beh c'è quello con lo zaino c'era il ragazzo lì con lo zaino che è in attesa da circa 5 minuti per poter e infatti sta ancora lì che è in attesa di ricevere anche lui il sacchettino ah ecco e vedi dopo un po' ecco sta cercando pazientemente di ottenere questo questa confezione regalo di snack ricordiamo che sono snack non diciamo il nome di questi snack perché sono comunque una gran novità di questa azienda ecco qua e viva è riuscito comunque ad avere il suo eh il suo snack la sua confezione ecco qua signorina e com'è fatto mi spiegate ah allora in pratica si mangia gratis si è una cosa che è uno snack nuovo che è questa azienda eh allora posso prenderne un po'? certo, certo certo che può prenderne ecco qua, grazie, grazie e a me? signorina? signori? eh un? ah wei scusi scusi? posso? beh forse è meglio che me ne vado qui non nessun mi sento nessun mi sento nessun mi voleva di niente signori scusate eh che che è sembra il pezzo tempo che sto aspettando eh che che è veramente posso averlo? si senta? se ecco grazie beh 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 un sei una bustina un mezzo becchiere si insomma è così giusto per assaggio eh non è che voglio ma ecco allora da notare questa persona questa gira intorno da circa 20 minuti non mi è stato possibile riprenderlo prima allora in pratica eh sta cercando di girare intorno alla bancarella qui dalla a la distributore e e infatti stava con si gira intorno si è fermato dico la scusa del di leggere gli orari eh di partenze delle partenze e e tanto farà tanto farà che sicuramente si avvicinerà al alla alla confezione al distributore scusate ecco guarda l'occhio lo sguardo è pa sul distributore guardate da un'occhiata al alle varie e poi il subito l'uomo ecco qua fa finta di nulla cioè in pratica non riesce ad avere il gira guardate lo sguardo ancora sul eh sul distributore